Un brano che si chiama, sto bene anche così, diciamo che è una bossa, quindi la suonerò chiudarla è bossa. Ho provato la mia anima, senti un momento oscura, nascosto un giorno qua, dimenticatami, tanto da averne paura. Ho frenato ogni emozione, per l'estasia mi oltre il naturale, e non scendevo più nel mondo io, e stavo solo a guardare, ma la luce dentro me, mi accercava quasi ormai, allora sono tornato, dentro nei guai. Che me ne frega dell'eterno, se mi piace questo infarto, io sto bene anche così, quando grido in mezzo a voi, che non state ad ascoltare, come fossi uno straniero, come se cercassi amore, o la gioia dentro al cuore, ma io, ma io, io no. Cosa devo fare ora, che non ho nemmeno l'intenzione, mi sembra inutile, non so se è giusto forse, è solo un'illusione, di provare la mia anima, mi fa paura ancora, e poi non sono così stanco in tanto, io, voglio vivere ogni vola, di questa vita che ci affanna, che più ne vuoi e più ti inganna, e quando pino si avvicina al sardo, poi, non è mai abbastanza, via, e vorresti ripartire, ma da dove non lo sai, perché tu in fondo, non cambi mai, non cambi mai, ti, 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 di, partirei ruppare, rimpare, rimpare, rimpare la tua, tu, eh, 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 tu. Che me ne frega dell'eterno, se mi sta bene in questo infarto, io sto bene anche così, Quando grido in mezzo a voi Che non state ad ascoltare Come fossi uno straniero Come se cercassi amore Con la gioia dentro al cuore Ma io, ma io, io no Grazie Quando hai fatto un saluto finale Insomma, è bellissima canzone Bellissima bozza Bravissimi Mauro e Blox 132 Un saluto quindi finale a... Allora, allora Vi faccio parlare il portatore Allora, sentite tutte le sue canzoni innanzitutto Perché sono bellissime E di un cantavotore così in Italia Ce ne ha bisogno Si, concorda, Elettri TV concorda Sul suo profilo trovate anche la mia canzone in sogna E seguiteci su Instagram Tuo profilo Instagram Mauro Arno Music Musician, scusate Mauro Arno, diciamo, global Mauro Arno sta un po' dappertutto Insomma, non ce ne sono tanti Per fortuna un cognome abbastanza raro Io ho voluto distaccarmi Soprattutto anche, quindi, nei locali Nel centro Italia Certo, dappertutto Adesso Ho intenzione di Mettere su una band E quindi C'è l'auspicio del tour A portare E certo Organizzeremo qualcosa sicuramente A me seguitemi su Instagram Blox 132 A breve ci saranno live Grazie, grazie Mauro Grazie Grazie Grazie